Ciao a tutti, in che modo un uomo manipolatore ti fa innamorare? In questo video ti voglio spiegare in che modo un uomo manipolatore ti fa innamorare. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e potrai scegliere tra gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale per partecipare alle live e poi l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. E adesso veniamo al tema, in che modo un uomo manipolatore ti fa innamorare. Ti ricordo ancora un'altra cosa che sul canale se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali crescita personale, felicità benessere, amore autostima e Massimo Terramasco ovviamente potrai entrare a far parte della più grande community italiana per quanto riguarda l'amore, la seduzione e la crescita personale, il benessere e potrai, il benessere esistenziale, potrai partecipare a dei gruppi dove conoscere persone nuove. E' tutto completamente gratuito, quindi vatti a iscrivervi a tutti e quattro i miei canali. E adesso veniamo dunque al tema, veniamo dunque al tema e il tema è quello del, diciamo, di come un uomo manipolatore ti fa innamorare. Allora, intanto devi tenere presente una cosa fondamentale che devi imparare a riconoscere un manipolatore. Come riconoscere un manipolatore? Come fai a sapere se è un manipolatore o se non è un manipolatore? E cosa significa, appunto, quali sono le cose che fa un manipolatore? Alcuni uomini, diciamo, possono usare la manipolazione per sedurre una donna e normalmente quali sono le strategie che fanno? Beh, allora, vi sono diverse strategie che tu puoi tenere presente. Alcune, ovviamente, le mettono in atto manipolatori e non manipolatori, però il manipolatore ovviamente lo fa con lo scopo di ottenere dei risultati e poi non è accompagnato, diciamo così, da sincerità. Quindi la prima cosa che tu devi fare è guardare i gesti e non le parole. Ma i gesti, intanto il primo segnale è quello di una persona di manipolazione che dice delle cose che non fa. Quindi il manipolatore ha questa abilità che sa cogliere molto rapidamente se una donna è coinvolta o meno, no? Perché comunque sa leggere bene la comunicazione non verbale, istintivamente. Non è detto che abbia imparato, lo sa fare istintivamente. Quindi una volta che nota che c'è un coinvolgimento non fa nessun investimento su questa donna e però dice molte parole. Quindi il primo segnale che tu devi tenere presente è se quello che dice corrisponde a quello che fa. Un'altra cosa molto importante che fanno spesso i manipolatori, siccome i manipolatori hanno spesso abbastanza fretta vogliono accorciare abbastanza rapidamente i tempi per cui tendono a mettere in atto i lovebombing. Quindi le persone che hanno fretta, fretta di vederti, fretta di fare le cose, fretta di raggiungere dei risultati, beh, è probabile che al 90% siano manipolatori. Questo è quello che succede. Succede ed è un qualcosa che devi assolutamente tenere presente perché se non tieni presente non potrai in nessun modo ottenere dei risultati di nessun genere. Purtroppo questo è quello che capita. Purtroppo questo è quello che succede e quindi devi prestare attenzione che il manipolatore ha anche un'altra caratteristica quella di sapere identificare molto rapidamente i tuoi bisogni. E quindi una volta che hai identificato i tuoi bisogni tende subito ad amplificare, tende ad amplificare rapidamente i tuoi bisogni. Il manipolatore inoltre cerca di avere un rapporto di potere. Quindi tieni presente che cercherai in qualche modo di avere il controllo della situazione perché il tentativo di manipolare viene fuori. Ovviamente anche qua è sempre importante controllare le azioni. In amore le azioni sono molto più importanti delle parole. Se ti fa dei complimenti devono essere accompagnati da azioni per misurare la loro sincerità. Ma non è che devono essere azioni del tipo ti invita a cena o una cosa del genere perché quello non è un qualcosa di importante. Se vuoi smettere di soffrire per amore devi cercare di controllare le tue emozioni soprattutto durante il periodo del corteggiamento, del flirt. Tieni presente questo che comunque indipendentemente da tutto durante il periodo del corteggiamento molti uomini manifestano delle cose che poi non metteranno mai in atto. Quindi questo è un qualcosa che devi tenere presente. devi cercare di prendere tempo e di vedere se le cose come vanno. Tieni presente che una relazione deve essere una maratona non sono i 100 metri, la corsa dei 100 metri. Un uomo che vuol partire nella corsa dei 100 metri è sicuramente un manipolatore o comunque una persona di fatto inaffidabile. Ecco queste sono le cose principali che tu devi osservare e per renderti conto se hai a che fare con un manipolatore. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare con gli abbonamenti base potrai partecipare diciamo a dare un sostegno al canale potrai partecipare alle live e con l'abbonamento seminario online potrai partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!